Nexium Buonasera a tutti, eccoci ritrovati per conoscere Nexium, il secondo volume della trilogia distopica edita dalla Dark Zone Edizioni. Abbiamo conosciuto i nostri protagonisti, il generale Amber, il colonnello Nicholas Marco e la nostra Elena al Salone Internazionale del Libro di due anni fa con Neptunia. Ora Nexium darà la possibilità ai nostri protagonisti di dare maggior vigore al loro valore. Preparatevi a un cielo che esplode e alla libertà anche con un sapore amaro e una libertà tutta al femminile. Mi raccomando vi aspetto online.